Siamo arrivati alla quinta edizione dell'osservatorio sull'uso dei social media da parte delle aziende italiane realizzato dal Master in Social Media Marketing dell'Università di Ulmi di Milano. Abbiamo l'opportunità di presentare i risultati allontano della Milano Digital Week, quindi è un appuntamento che ci fa particolarmente piacere affrontare con questi contenuti. Che cosa è emerso? L'osservatorio ormai dal 2010 prende in considerazione un panel di 720 aziende italiane suddivise in diverse industrie e sostanzialmente monitoriamo l'uso che le aziende fanno dei canali digitali, dei social media per attività di marketing e comunicazione. All'interno di questo osservatorio abbiamo messo sin dall'origine appunto anche uno strumento riproducibile sostanzialmente standardizzato di analisi che ci dà un po' la social mediability delle aziende, quindi un indicatore complessivo che ci dice in che modo, con che livello di maturità le aziende stanno utilizzando questi canali social. Mi limito a raccontare questo dato sintetico, fino a quest'anno eravamo al di sotto della sufficienza sul campione generale e purtroppo anche quest'anno siamo rimasti un po' al di sotto della sufficienza. Questo vuol dire che laddove le grandi aziende, come è sempre successo, performano meglio, hanno dei risultati molto interessanti e usano questi canali in maniera matura e consapevole, le piccole e medie imprese, soprattutto le piccole imprese, in qualche modo hanno ancora difficoltà a comprendere il valore e non hanno la cultura sufficiente per utilizzare questi mezzi nel migliore dei modi. Grazie! Grazie!